erano due modelli disponibili entrambi in relazione nello stesso momento quindi ci siamo chiesti perché non fare questo video accessorio bene signore e signore questo è il video di presentazione o meglio di comparazione del modello in win h frame prima revisione h frame e il modello di frame nel video precedente il cui link che lo trovate in basso nella sotto il canale di youtube e avete potuto osservare il la presentazione diretta del di frame senza però il plate esterno che che permette il fissaggio del vetro il vetro vetro temprato laterale presente su entrambi i dati del modello in infatti era era semplicemente presenti questa queste queste erano semplicemente presenti queste quattro viti che però appunto permettevano tramite questo profilo gommato l'adesione appunto del vetro laterale vetro che è molto resistente lavorazione eccezionale qualità delle finiture semplicemente sbalorditiva veramente eccellente qui invece abbiamo il cabinet h frame che è stato il primo modello di win ad essere commercializzato per quanto riguarda la serie di edizioni limitate anche questo modello ovviamente in edizione limitata non è segnato però il numero della e del telaio con così insomma è rilevante sappiate che è molto difficile da reperire e la lavorazione come la verniciatura ovviamente è interamente al in alluminio lavorazione in cnc finiture semplicemente allo stato dell'arte perché è difficile trovare un cabinet con questo spessore questa rigidità e sono 11 plate messi uno accanto all'altro e fissati tramite un sistema di quattro tubazioni e con filettatura all'interno e 11 plate di cui due laterali due laterali in questo caso il plate esterno non è presente perché appunto vi abbiamo mostrato l'interno del del cabinet quindi due quindi due laterali 9 e interni tra cui due quello laterale destro e quello sinistro in questo caso il contrario perché visto da dietro che sono più spessi di quelli interni di quelli interni la troviamo ovviamente predisposizioni per ventola in questo caso due da 120 mm com'è così poche perché il cabinet appunto è completamente aperto e similmente al d frame e similmente all x frame un altro cabinet che abbiamo o meglio un altro banchetto estremo che abbiamo recensito e di cui trovate sempre sotto il link alla recensione sono dei modelli eccezionali sotto molteplici punti di vista soprattutto la dissipazione termica perché aperto perché le performance sono semplicemente eccellenti per quanto riguarda la cpu è il massimo che potete ottenere per quanto riguarda la scheda video qui abbiamo due configurazioni diverse classica atx per l'h frame e invece simil silverstone se vogliamo dire per il il d frame e invece orizzontale o silverstone o atx oppure atx inversa per l'x frame ovvero semplicemente un tripudio di configurazioni per l'h frame diciamo è stato uno il primo modello rilasciato in commercio da questa casa quindi insomma ha tratto molta attenzione però c'è stato c'è stato diciamo molto rumore dietro a questo modello però qualche piccolo difetto di progettazione comunque è presente da notare comunque l'assoluta cura per i dettagli per la lavorazione la finitura complessiva di questi plate la presenza di sistemi thumb screw quindi che non richiedono appunto la viteria addizionale ma soprattutto la presenza di sistemi hot swap per gli hard disk e questa è una delle caratteristiche più interessanti di questa soluzione come vedete lì ingresso sata ingresso di alimentazione e quello è precisamente per le ssd ma troviamo lo stesso per quanto riguarda gli altri hard disk insomma quindi ingressi hot swap per quanto riguarda gli hard disk performance elevatissime per quanto riguarda le componenti interne una lavorazione semplicemente unica un performance molto elevata che quindi portano a una rumorosità complessiva leggermente inferiore rispetto a quella che ottenibile diversamente per quale motivo per l'assanza di ventole che sarebbero state necessarie per migliorare la ventilazione ovviamente non c'è nessun contenimento del rumore quindi qualora fossero utilizzate schede grafiche da notare la lunghezza potenziale delle schede grafiche elevatissime quindi insomma diciamo qualora fossero utilizzate schede grafiche rumorose beh purtroppo la natura di questi cabinet che tendono a far sì che le componenti interne siano decisamente impolverate però ovviamente dipende dai sistemi questi cabinet quindi hanno diciamo una natura attesa alle prestazioni massime e quindi con una scheda grafica reference insomma ci sarebbe un problema di accumulo della polvere però nulla di complesso se vengono utilizzati i sistemi di dissipazione alternativi la situazione sarà decisamente migliore per quanto riguarda l'H frame come vedete diciamo che c'è qualche piccolo problemino per quanto riguarda il cablaggio posteriore piccolo per usare un eufemismo perché purtroppo la la distanza tra il plate posteriore l'undicesimo e il decimo è un po ridotta in realtà non è tanto quello quanto la totale assenza di un sistema di cablaggio perché qualora dovessimo rimuovere questo plate anche se basta insomma che legge la recensione ma vi accorgerete vi sarebbe sarebbe assolutamente evidente quanto è la l'assenza diciamo di un sistema di cablaggio posteriore con fascette passacavi e aperture passacavi possa incidere appunto sul risultato finale comunque sia è una soluzione elite è una soluzione ricercata ed è una soluzione che si discosta completamente da tutto il resto della della concorrenza bene questo era semplicemente un video di presentazione quindi vi rimandiamo le specifiche recensioni dei suddetti modelli un po' di